Allora, gli ingredienti per preparare questi croissants bicolore, prendete nota, vi servono 120 g di latte a 20 gradi, 190 g di farina di grano tennaro italiano macinata a pietra di tipo 1, 10 g di lievito, questo polish di cui vedremo poi sopra, 190 g di farina panettone, 120 g di farina pesfoglie, poi 60 g di zucchero e 15 g di trimolina, 2 g e mezzo di lievito, 100 g di burro freddo, 250 g di burro piatto, quello che serve per sfogliare, 120 g di latte intero freddo, 10 g di pasta vaniglia e 15 g di pasta d'arancia. Per l'impasto colorato servono 100 g di impasto per i croissants con 5 g di cacao e 3 g di acqua e per la farcitura 30 bastoncini di cioccolato, 15 bastoncini da 8 g di marzapare e 30 filettini di arancia candita che hanno tenuto anche, sono rimasti lì nonostante il mio attacco. Partiamo proprio da quello che ti dicevo, partiamo proprio con il polish, è un preimpasto fatto con, in questo caso, latte, lievito di birra e farina, ma si può utilizzare anche acqua al posto del latte. Benissimo, tu perché utilizzi invece il latte? Perché dà più gusto e più struttura al croissant, perché sono presenti anche le proteine del latte, e quindi adesso sbricioliamo il lievito, lo sciogliamo bene bene. Perfetto. Lo lavoriamo a 20 gradi per far partire la lievitazione. Ecco qua. Allora, quindi poi aggiungiamo la farina. La dobbiamo appena appena amalgamare. Sì. E poi... Si lascia maturare. Si lascia maturare coperto con pellicola per circa un'ora. A 20 gradi, 20-25 gradi. Benissimo, diciamo una temperatura ambiente. Esatto, 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 assolutamente. Trascorsa un'ora... Questo è ciò che... Eccolo qua, questo è il risultato che otteniamo. Benissimo. Farina. 190 grammi di farina per sfoglia, macinata a pietra. Certo, farina macinata a pietra, l'importanza di avere tutto il grano, proprio tutto il tipo di grano, tutto il gusto. Questa poi, oltretutto, è una farina altamente, come dire, sicura, perché è una farina che viene controllata con una lettura ottica di ultima generazione, per cui passano e diventano ottenere soltanto i chicchi di grano sano. Poi utilizziamo anche una parte di farina panettone. Sì. Che ha un contenuto proteico più alto, quindi mi lascia l'impasto più estensibile e trattiene meglio la lievitazione. Quindi la nitride carbonica prodotta dai microrganismi, cioè i lieviti, e poi possiamo unire tutti gli ingredienti insieme. Nella planetaria. Esatto. Vedi, quando dicono che il croissant, no, io lo li preparo, sono troppo complicati. Seguiamo le regole di massimo. No, è molto molto semplice questo impasto. Zucchero. Questo che cos'è? Questo è sale. Sale. Lo mettiamo insieme in questo impasto francese. Poi aggiungiamo pasta arancia e trimolina. Sì. Trimolina è lo zucchero invertito, ma a casa può essere sostituito con il miele. Benissimo. Un piccolo trucco per staccare il pollice dalla parete. Andiamo a versare il latte sui bordi. Altro latte. Altro latte, sì. Dai a me che metto a posto, io sono qua per questo. Versiamo tutto nel bicchierone qui nel contenitore del... Ecco. Un po' di pasta vaniglia o un mezzo baccello di vaniglia. Sì. E infine del lievito ancora, come vedi, avendo preparato il polish prima. Certo. Possiamo mettere un quantitativo davvero simbolo. Minimo proprio. E procediamo a impastare il tutto. Fatto tutto, coordinato, sintetizzato. Esatto. Benissimo. Adesso procediamo alla fase di impastamento. Però quello che noi otterremo sarà da questo impasto qua, sarà un panetto da 940 grammi, di cui 840 grammi li usiamo per sfogliare. 100 grammi, li abbiamo prelevati e li abbiamo colorati con il cacao e l'acqua. Cominciamo a stendere. Adesso li facciamo capire. Adesso dobbiamo stendere il panetto della lunghezza del pezzo di burro. Benissimo. E adesso andiamo, come si suol dire in pasticceria, a incassare il burro in questa maniera qua. Deve combaciare l'impasto con il burro. Non dobbiamo far sovrapporre i due lembi, ma deve combaciare. E poi stendiamo piano pianino. Adesso l'abbiamo steso. Procediamo alla piega 4. Abbiamo realizzato la prima piega 4. 1, 2, 3, 4. Adesso stendiamo nuovamente. Benissimo. Per fare la nostra piega 3. Esatto. Solitamente tra una piega e l'altra c'è un periodo di riposo di circa 20 minuti in frigorifero. Arrivati a questo punto abbiamo 1, 2, 3 pieghe. Abbiamo il nostro panetto di pasta colorata. Andiamo a schiacciarlo. Benissimo. E poi andiamo a stenderlo. Però in questo caso veramente c'è bisogno di un po' di riposo in frigorifero. Dopo mezz'ora noi lo stendiamo a circa 2,5 mm come questo qui. Voilà. E partiamo con il taglio invece. Andiamo a fare dei triangoli e andiamo a comporre il nostro croissant. Le alette le mandiamo verso l'esterno e arrotoliamo in questa maniera. Una volta cotti appunto come ci ha spiegato Massimo prima e questo è il risultato del croissant. Esatto, esatto.